Cominciando dall'inizio, lei cita la casa del fascio di Terragni, vista durante la sua infanzia come fonte di ispirazione, con i suoi giochi di luce e il rapporto fra luce e spazio che sono poi al centro di tutta la sua opera. Dopo una laurea in architettura al Politecnico di Lausanne comincia giovanissima a creare dei progetti tecnicamente e concettualmente complessi. Ma chi o che cosa le ha dato la forza di portare fino in fondo quella sua visione? Lei ha parlato in passato dell'importanza di sua nonna nella sua formazione. Non è che avesse un ruolo così importante, però è stata l'unica persona che mi ha detto vai avanti, perché se dipendeva dai miei genitori basta che facevo economia domestica per loro andare bene. Per cui insomma i suoi genitori non l'hanno passata? Nessun interesse. E lei ha fatto anche una sosta nell'atelier di Frank Lloyd Wright che ha insomma descritto come abbastanza despotico. Eh sì perché da ragazzini poi in quel periodo la casa sulla cascata c'è tutti molto impressionati. Certo. Poi eravamo ragazzini e quindi poi in America avevo la musica che adoravo il jazz, un tipo di letteratura per cui dovevo assolutamente andarci. Se volevo imparare qualcosa che mi piaceva ovviamente. Però è stato in qualche modo una delusione si ha l'impressione. Ah Mr. Wright assolutamente, assolutamente. Ma proprio un despota che picchiava gli studenti se sbagliavano con le bacchette sulle mani, cioè invece di un'organizzazione militare. E dopo, riguardando Meglio il suo lavoro, ho incominciato a scoprire che in fondo i mobili che disegnava erano qualcosa tipo post secessione, magari sbiancati di bianco, però la storia non è che è andato molto più lontano. E poi ho scoperto che la casa sulla cascata, come è arrivata? È arrivata perché il cliente suo ha chiesto lui espressamente questa posizione. Non era una situazione, cioè tante cose sono accumulate. Beh insomma, non è così interessante come sembrava. Lei ha anche però intitolato una sua sedia, tra l'altro molto bella, Wright se non sbaglio. No, no, il Wright Wright è giusto giusto. Ah, però con la W, però con la W e per cui potrebbe essere così un gioco di... No, ma il gioco del discorso era solo giusto. Per cui, insomma, si ha l'impressione che invece i suoi punti di riferimento più importanti fossero appunto Gio Ponti e Fontana, piuttosto che questi maestri più accademici. Ma meno di accademici, cioè è gente che viveva appena appena nel presente, assolutamente non nel futuro. Mentre invece, per due motivazioni differenti, sia Fontana sia Ponti, cioè Ponti era già uno che elaborava il lavoro, io dico sempre a 390 gradi, nel senso che il suo lavoro era una visione generale, totale. Non era solo la struttura della costruzione, ma era l'interno, a partire dal pavimento, fino al piccolo, più piccolo oggetto, fino al cucchiaio. E poi lavorava sulle arte integrate, che adesso magari noi non piacessero agli artisti che piacevano a lui, non ha importanza. Però che fossero ironi o un altro, cioè se a noi non piacevano, però il concetto era quello dell'integrazione del discorso totale. E questo lo faceva prima che ero nata io, e quindi a certo scuola non ce l'insegnavano, me lo sono andata a cercare. E dopo siamo anche diventati amici, perché era una persona squisita, sempre col sorriso sulle labbra, non si arrabbiava mai. Un bel contrasto con Frank Lloyd Wright, insomma. Cioè esattamente, ecco l'opposto, esattamente il contrario. E Fontana invece era uno che era già spinto in avanti da tanti anni, dal suo manifesto blanco, è impossibile non capire che il suo sguardo era molto lontano. E poi combinazione anche lui, una persona speciale, molto gentleman, molto speciale, generoso, era l'unico che comprava gli artisti giovani, che andassero bene o no, però lui li comprava. Ma infatti è stato facile per lei, diciamo, avvicinarsi a una figura come Fontana, quando ha deciso che le interessava? Lei comunque ha potuto raggiungerlo in qualche modo? Ah, basta andare a bussare allo studio. Sono cose di altri tempi. Infatti, 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 oltretutto non c'era questa abitudine che in giovani andavano a cercare questi personaggi. Era proprio stata una mia pretesa. E beh, mi avevo tanta voglia che dico, vabbè, Massimo li butta fuori. Ma invece, no, mi sono fermata e sono diventata quasi ragazzino di bottega, a preparargli fondi, quindi lo seguivo molto da vicino. Ed è stata una grande lezione di vita dell'arte, insomma. Un coinvolgimento con il Gruppo Zero suggerirebbe una rottura con il passato, però lei sostiene che un'analisi del passato è necessario per andare oltre. Ma a parte Terragni, che cosa è stato importante per lei nella storia della cultura visiva? Si sente, per esempio, figlia delle avanguardie storiche di Duchamp, di Laszlo Moholy-Nodge, oppure ha guardato altro? Assolutamente no. No. Non mi riguarda proprio per niente. Mi sento figlia del razionalismo, questo di sicuro. Però dietro a quello c'è, da Brunelleschi a Pier della Francesca, all'architettura egiziana, babilonese, queste sono... Per cui è tutt'altro. Non dimentichiamo il Rinascimento. Cioè, gente che lavorava a piano totale, a tutto tondo, capisci? Dall'interno all'esterno, fino al gioiello, per dire. Ma anche lo stesso Leonardo, insomma, ha fatto sì. Non lo nominavo, è totalmente scontato. Lei spesso, pure usando dei materiali innovativi, anche industriali, spesso riesce a superare la materia per raggiungere qualcos'altro. Quindi, per lei, come ha già accennato, arte, architettura e tecnologia possono coesistere. E credo che, insomma, ha già detto che in questo senso l'impatto delle sue collaborazioni con Fontana e Ponti è stato fondamentale. Ma loro hanno confermato quella che era già una sua intuizione? Esattamente questo, esattamente questo. Perché altrimenti sarai un clone o di Ponti o di Fontana. E' proprio questo che è l'insegnamento principale per me. Lei ha ideato tanti lavori focalizzati sulla luce, i cronotopi che vedremo a Londra fra qualche giorno, le scritte luminose, i light trees, ma nei suoi interni ha creato dei veri e propri ambienti cronotopici, come per esempio Casa Pellegrini, Casa Meneguzzo e le case colorate blu, nera e gialla. Sono opere che ci appaiono tuttora assolutamente visionarie. Che impressione le fanno adesso? E' colpita pure lei dal loro aspetto così innovativo a distanza di tanti anni? No, era una cosa giusta e basta. E poi devo dire, invece è una cosa incredibile che, per esempio, i materiali che c'erano allora, che potrebbero essere più primitivi, purtroppo, ormai oggi sono introvabili. E non sono delle cose così incredibili a proposito di tecnologia, tecnologia quale? Ci sono addirittura dei profili di alluminio che a me servivano per fare i portali o per sostenere queste pareti di vetro, non esistono più. E questa è l'unica differenza incredibile. Meno male che li ho fatti allora. Perché, per esempio, quella che lei chiama la Casa Blu, era questo vetro che produceva la Saint-Gobain, esattamente blu, ma un blu, un zaffero, un gioiello, una cosa fantastica. Sono anni che non esiste più che non lo producono più, o perché sono troppo costosi, hanno poche richieste. E ho detto, meno male che l'ho fatto allora. In questo senso, posso dirlo, perché purtroppo... Ma a parte la Casa Museo di Remo Brindisi, questi altri interni, alcuni esistono ancora, sono tutti, insomma, sono persi adesso? Pochi, pochi purtroppo. Ma sono comunque tutti archiviati, così, sul sito e nel catalogo di... Ah, come materiale di immagini, certo, sì, sì. È evidente che lei sia stata una pioniera nell'arte della luce, ma un suo progetto, forse meno conosciuto, ma altrettanto innovativo, è la straordinaria Necropoli Verticale, disegnata più di 50 anni fa. Recentemente si è parlato di alcuni progetti per cimiteri verticali, in Norvegia, in India, definiti oggi aveneristici. Ma a lei come è venuto in mente, tra l'altro da giovanissima, questo affascinante grattacielo di morti, purtroppo mai realizzato? In un modo molto semplice. I metri quadri di una città costano sempre di più, sono sempre di meno, andiamo in verticale, dove è il problema? In un modo molto semplice. Però è buffo che oggi se ne parla come una cosa così di avanguardia, perché credo che la prima realizzata fosse in Brasile negli anni 80, poi, per cui comunque tanti anni dopo. Quindi si parla spesso di negazione dell'espressione, quando si parla così di molti esponenti delle neoavanguardie, però lei parla spesso di sentimento, anche di spiritualità, di amore. Quindi è vero che per lei un'arte concettuale non debba necessariamente negare la sfera emotiva? Sono scelte, sia di chi produce questo tipo di arte, sia da chi l'apprezza. Cioè, probabilmente c'è un gruppo di situazioni, di cose che non vuole avere niente a che pensare. Dice, un pezzo di arte che ha il valore di mercato, mi interessa per quello e non mi dà a pensare. E va bene, però esistono anche altre situazioni dove invece uno dice, Per me è importante che un'opera porti un risultato, anche quello che disegna soltanto il piatto e il bicchiere. Se lei ha piacere di guardare in questo piatto, di sollevare questo bicchiere, che le dà piacere, eh, lì lo scopo è raggiunto. Se è solo un uso così, va bene, allora sono cose eroginale, Ikea insegna, va bene così. Però tutto il design dovrebbe avere questo significato. Sono perfettamente d'accordo, ma infatti, lei ha anche un rapporto forse più ludico, anche onirico. Mi viene in mente il fatto, per esempio, che scrivesse il proprio nome con le lettere luminose per evocare il mito, appunto, delle dive, così, del cinema. Ma è anche tautologico. Sì. Perché dico che faccio un progetto scrivere e dico che faccio un progetto di luce, è tautologico. Percepisco anche un che di Alice nel Paese delle Meraviglie, o meglio attraverso lo specchio, nei suoi tremploi esperenziali, che sono così coinvolgenti per lo spettatore. Perché credo che per lei sia fondamentale il ruolo dello spettatore. Sì, certo, assolutamente sì. È lo spettatore che diventa parte dell'opera stessa ed è questo che dà la mutazione continua del lavoro. Perché ciascuno ha delle cognizioni diverse o delle situazioni karmatiche completamente diverse, per cui non c'è una persona che si uguale all'altra e ogni visione è diversa. Quindi è tutto in divenire. E vista la qualità estremamente cinematografica dei suoi ambienti, le specchiature, i giochi di luce, l'incertezza della realtà, non ha mai pensato di disegnare per il cinema? Penso per esempio a spazi come la casa che non c'è o il labirinto cronotopico. Quello che però posso dirle è che il cinema è andato spessissimo a girare nelle case che ho fatto. Molti film. Ah sì? Perché per esempio Villa Brindisi, che è stata definita un'astronave nella Pineta, sembra proprio un'immagine di un film inedito di Kubrick. Soprattutto nella Casa Blu ho girato tanti film, anche film gialli, gangster a Milano, ma roba del genere. E nella casa che ho fatto in collaborazione con Gia Ponti. La Casa Sotto la Foglia? Sì, bravissima. Servite ai servizi di moda, ai film. Però lei, insomma, personalmente non ha voluto... Non mi è capitato. Ah, è sorprendente. Ha fatto qualche scenografia... Teatrale, ha fatto Top Girls. Sì, mi sembra, sì. Volevo parlare un po' del libro di Anna Lentz sulle donne che sono state compagne di artisti del Movimento Zero, spesso artiste loro stesse. Franziska Maggett, per esempio, non sopportava il fatto che Jeff Verhoeven dicesse che le donne non possono creare l'arte, mentre Rotterlein raccontava che Yves l'ha molto sostenuta come artista. Lei invece ha incontrato una forte opposizione al suo lavoro da parte di Piero Manzoni che addirittura ha preteso che lei rinunciasse al suo studio. Erano le liti continue, continue, continue. Ma pensavo, insomma, per avere lui delle reazioni così forti e un senso di competizione così accesa, si può dire che comunque riconoscesse il suo talento e la sua esistente identità artistica e forse per quello si sentiva... Non ho mai voluto analizzare, mi è bastato quello che è successo. Prenderne atto, sì. Sì. Ma forse l'ha resa ancora più determinata con così quell'opposizione. Sicuramente. Sicuramente, per cui a qualcosa è servita forse. Non mi sembra molto. Beh, senz'altro ho fatto degli esercizi di comprensione dell'arte a dei livelli che, all'età che avevo allora, non potevo certo immaginare. Per cui, insomma, non avete collaborato come invece ha collaborato con Fontana e Ponti, però avete comunque discorso di idee, avete comunque scambiato così delle idee pur non facendo delle collaborazioni vere e proprie. Non ho mai potuto avere un dialogo sull'arte. Tutto quello che avevamo in trasmissione era assolutamente telepatico. Lui sapeva benissimo fino a che punto capiva il suo lavoro. E non voleva andare più in là. Ma forse quello non solo con lei, ma in generale, crede? Ma abbastanza, abbastanza in generale. Però in un senso leggermente diverso. Lui era molto geloso dei suoi progetti. E nemmeno gli amici più cari, più intimi, mai chiedeva dei consigli sui materiali. Ma mai, fino a quando non aveva svolto tutta la tematica che stava svolgendo, non voleva mai parlare con nessuno. E quindi neanche con lei? Ah beh, tantomeno. Prima di tutto. Ma tanto sapeva benissimo che sapevo dove dovevo arrivare. E lui non voleva neanche, raccontava appunto nel libro di Anna Lenz, non voleva neanche che lei parlasse delle culture asiatiche o africane. Un per carità. Sì. Un per carità. Che sono poi diventate sempre più importanti per lei, credo, a partire dagli anni 90. No, da molto prima. Ah, da molto prima. Sì, sì, sì. E quindi si può dire che a un certo punto le interessava sempre meno il lato funzionale dei suoi lavori e che il suo dichiarato sospetto nei confronti del reale privilegiava sempre di più i simboli, l'illusione e così? Sì, certo. Ciò nonostante, lei ha spesso unito funzione, e chiamiamola magia, nelle lampade mobili storici come per esempio Manhattan, Golden Gate, la poltrona 2+, e le mensole Light Light. Non sempre, cioè molto dipende dal datore di lavoro. Nel senso che per esempio questo signore con cui ho fatto le lampade era un imprenditore illuminato, che sapeva quello che faceva, determinato. Non ce ne sono tanti, perché normalmente quando lei lavora sul designer, ecco perché non è che amo tantissimo svolgerlo, dal progetto, io parto sempre dal progetto artistico e poi lo svolgo sia per gli interni che per ascendere sempre, no? La produzione ha delle richieste di costi, di fattibilità, di spedizioni, di non interventi esterni, talmente importanti che praticamente le azzera sempre il progetto. Quindi è difficile, mentre vedete, per esempio questo signore che si chiamava Angelo Lelli, che tutti si dimenticano, invece è stato un imprenditore super illuminato, no, era uno che si spingeva oltre, per cui è più facile riuscire a produrre, però oggi non esistono neanche più gli imprenditori di questo tipo. Già erano delle realtà loro, ma oggi non esistono. Cioè per esempio, questo tubo della Golden Gate non aveva un sistema, una macchina piegatrice che facesse, sviluppasse questa lunghezza di tubo. No, non c'è problema, si è messo lì in un'officina, si è costruito lui la macchina e abbia fatto. Questa è poi la ragione per cui finalmente uno dei rari pezzi che non sono mai stati copiati, perché ci vuole una piegatrice particolare per fare il tubo. Quanti imprenditori sono così? Ormai non esistono più. Per cui è stata una fusione insomma perfetta fra, come dice, datore di lavoro, artista e materiale anche, tecnologia. No, 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 capacità dell'imprenditore, volontà dell'imprenditore. Questo led dell'accensione, quando l'abbiamo fatta, perché abbiamo cominciato nel 69, poi si è approfitto nel 70, nessuno sapeva cos'era in Italia, non lo sapevano assolutamente. Appena appena in America, però chi lo vendeva? Quelli che producevano le lampade per Cap Canaveron, per i cruscotti, sì, per la NASA. Lui è andato là apposta a prendere queste lampadine. E chi è che fa queste cose adesso? Perché per fortuna era anche abbastanza un poeta, nella sua situazione di materiali così precisi, però era anche un poeta, ma sono rarità, capisce? Quindi, presumibilmente, possono sorgere gli stessi problemi di conflitto fra visione artistica e realtà di produzione quando lavora sull'interno? Oh, problemi tantissimi, ma non certo nella mia visione artistica, perché qualche sotterfugio lo trovo sempre. Ma problemi pratici, sì, certamente. Perché poi il discorso finisce sempre dalle mogli, no? Cioè, a un certo punto si sottrae... Perché te citano loro? Perché dice... E insomma, ecco, mi hanno cognizioni abbastanza ampie da poter... Quindi i problemi sono sempre quelli. Anzi, a un certo punto, fino a anni fa, mi lamentavo, dico, ormai non faccio più nell'architetto, nel design, dico, faccio l'analista. Perché, sì, sì, veramente. C'erano più le ore che perdevo a spiegare, a raccontare, che non a fare il lavoro... Fare il lavoro vero e proprio. Sì, veramente. Assurdo. Eh, però così. Se volevo arrivare a una soluzione che mi interessava un po'. E tornando al presente, lei raccontava ad Anna Lenz di uno studio che stava facendo di certe pietre che emanano questa luce naturale, credo siberiane. Purtroppo, purtroppo, il riperimento di questo materiale è difficilissimo. Perché sono cose che si trovano in Siberia o in Alaska, per averle, è un problema enorme. Sono diventati costosissimi, più dell'oro. Eh, purtroppo, non riesco a portare avanti per fattori. Poi, siccome ormai la mia salute è un po' precaria, prima mi muovevo, andavo indietro, avanti via l'era, e cose, adesso sono quasi immobilizzata. Per cui, sono cose che purtroppo non posso portare avanti. Peccato, perché sembrava un progetto affascinante, la stanza buia che descriveva con questa luce infinita, così che si genera da sola. Prima o poi realizzerò un piccolo esempio, perché mi sono procurata dei materiali anni fa, in cui era ancora possibile accettabile le cose. Quindi, magari un piccolo esempio avanti, però non posso produrre il lavoro. E poi volevo chiedere, fra qualche giorno ci sarà un'importante mostra alla Mayer Gallery a Londra, e sarà pure rappresentata la retrospettiva dedicata al Gruppo Zero, al Guggenheim di New York. Lei si identifica soprattutto come artista individuale o è importante anche l'adesione ad una collettiva, tra l'altro transnazionale, o sono semplicemente due aspetti della sua identità artistica? No, la collettività è importante in quanto come singolo, noi diciamo cani sciolti come artisti, è difficile portare avanti un discorso che è abbastanza unitario, che si svolge in una certa direzione. Quando diventa un gruppo, un discorso plurale, è più facile essere esplicativi della direzione del lavoro. Per questo è ormai importante. Perché lei ha curato diverse mostre di Zero, recentemente anche in Russia, ma cambia molto il suo rapporto con una mostra in cui sono esposte le sue opere quando lei ne è la curatrice? Sì, è ovvio, nel senso che avendo conosciuto tutti questi artisti quando erano appena appena agli inizi del loro lavoro, abbiamo avuto un training di pari passo tale per cui già solo quello è come dire come un ricordo di quando uno era giovane e pieno di voglia e di speranza di arrivare a fare delle cose, già solo questo ricordo le dà un input maggiore che qualsiasi altro rapporto. questo è più che normale. Perché la cosa che a me piace di più di questo è che siamo proprio venuti su insieme. Gli ho visti quando, diciamo, tentavano di fare delle cose in una certa direzione. piano piano sono tutti completati e quindi ci siamo incontrati quando lo spirito di tutto questo era veramente aperto senza la malignità e la cattiveria di arrivismo che oggi è proprio prammatico per l'arte e per gli artisti soprattutto. Non fanno che parlare dei prezzi al centimetro cubo dei loro lavori. Cioè, un altro discorso non esiste. e invece c'era tutto un coinvolgimento totale di tutti che fosse dall'Olanda alla Germania persino gli svizzeri che erano i più... i più ermetici. Sì, sì, sì. Invece c'era. Questo è bello. Quando lei lavora queste cose è come se rinfrescasse questo... E i contatti con loro sono ancora vivaci, diciamo? Eh, per quei pochi che sono rimasti, sì. Siamo sempre di meno. Perché avevo otto pina e mi sembra che sia morto molto di recente. Qualche settimana fa. 15 giorni fa. Sì, poi proprio poi. Eh, ma aveva anche 25 anni. Eh, appunto, ragazzi, non ci siamo accorti ma il tempo è volato via. Eh, lo so. No, ma infatti Fontana lo diceva sempre, è vero. Gli artisti non invecchiano mai e sì, potrò invecchiare il corpo ma il cuore, la testa, tutto il sistema dei chakra, no, è sempre vivissimo fino all'ultimo respiro. Infatti, questi artisti, quelli giusti, non smettono mai di produrre, di discutere, di continuare a muovere tutto il lavoro. Esatto. Va bene. Grazie, grazie infinite. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.